Era il lontano 2007, quando Io sono leggenda diventava uno dei film più profetici di sempre. E no, non ci riferiamo tanto alla pandemia, alla paura di gente infetta, alle strade vuote, oppure all'impresa di fare la spesa in un mondo in rovina, ma all'incredibile poster di Batman contro Superman che capeggiava sui palazzi del film, ben nove anni prima che il cinecomic vero e proprio fosse concepito. Vabbè, scherzi a parte, Io sono leggenda è un film di grande successo, molto amato dal pubblico. Costato 150 milioni di dollari, il film di Francis Lawrence ne ha incassati quasi 600, anticipando anche l'exploit delle grandi narrazioni post-apocalittiche, poi cavalcata da The Walking Dead. Il film, tratto dall'omonimo romanzo di Richard Netson, ha coinvolto tante persone, grazie al suo immaginario post-apocalittico molto credibile e all'ottima presenza scenica di un intenso Will Smith al fianco di un pastore tedesco più bravo a recitare di molti attori in carne e ossa. Ma adesso questo vecchio film sembra che stia diventando un franchise, visto che Io sono leggenda 2 si farà. La fonte affidabilissima è Deadline, che ha rivelato che la Warner è al lavoro su un secondo film. Ma stiamo attenti a non definirlo subito un sequel, perché forse un sequel non sarà. Ma adesso vi raccontiamo tutto, parlandovi di tutto quello che sappiamo su Io sono leggenda 2. Di un sequel di Io sono leggenda se ne parla da tantissimo tempo. Si vociferava di un secondo capitolo già nel lontano 2008, appena un anno dopo l'uscita del primo film. Ma fu nel 2011 che la Warner mise in cantiere I Am Legend Awakening, un vero e proprio prequel ufficiale che avrebbe raccontato l'esplosione della pandemia e l'inizio dello stato d'emergenza collettivo. Ma il problema era soprattutto uno, Will Smith non voleva girarlo. L'attore non era convinto, è dopo i vari bad boys e Man in Black disse ufficialmente, non voglio essere ricordato come l'uomo dei sequel. E così preferì dedicarsi a progetti nuovi, in cui poter sfruttare diversamente le sue doti da uomo d'azione. Ma la cosa interessante che ha tenuto acceso il fuoco di Io sono leggenda è stato il suo controverso finale. Perché come ricorderete, il protagonista muore alla fine del film, facendosi esplodere assieme agli altri infetti, il che creava un bel problema per un sequel puro. Visto che senza un peso massimo, come Will Smith, il film non avrebbe certo avuto lo stesso appeal commerciale. Però, subito dopo l'uscita di Io sono leggenda, in rete è trapelato un video molto interessante che ribaltava tutto. Stiamo parlando dell'ormai famosissimo finale alternativo, girato e poi scartato, in fase di montaggio. Un finale secondo noi molto più suggestivo, ispirato, poetico e profondo di quello scelto, visto che è un epilogo che umanizza parecchio la figura degli infetti, donando loro una complessità maggiore. Un finale poi in cui il nostro protagonista Neville veniva risparmiato dalle creature e sopravviveva. Ma dopo tanti anni di silenzio in cui tutti avevano quasi perso le speranze, qualche giorno fa una notizia ha scosso il web. Io sono leggenda 2 si farà. Lo scriverà sempre Akiva Goldsman, già sceneggiatore del primo film. E soprattutto vedrà il tanto agognato ritorno di Will Smith al fianco di Michael B. Jordan. Per annunciare il nuovo film in lavorazione, i due hanno postato la stessa emblematica foto sui loro profili Instagram, e sembrano essere coinvolti sia a livello produttivo che creativo. Infatti lo stesso Will Smith ha dichiarato, sono stato convinto a tornare soprattutto grazie a un'intuizione di sceneggiatura avuta anche da Michael. E' venuta fuori questa idea forte, di cui ovviamente non posso ancora parlare, che si basa su un concept molto ma molto interessante. Lo ammetto, onestamente io sono leggenda e uno di quei film che volevo lasciare lì dove era, ma dopo è arrivata questa idea forte, che potrebbe davvero funzionare. A questo punto le strade secondo noi sono tre. Io sono leggenda 2 potrebbe essere un prequel ufficiale che riprende l'idea del 2011, ma onestamente se Smith si è detto convinto da un'idea nuova, dubitiamo che il vecchio spunto del prequel potesse entusiasmarlo. E allora ecco due alternative molto stuzzicanti. La prima è un sequel puro, in cui Will Smith però apparirebbe solo nei flashback, magari interpretando un personaggio legato a quello di Jordan, che sarebbe così il vero e proprio protagonista del film. Oppure, e questa è l'idea che ci piace di più, potrebbe essere un what if, basato proprio sul finale alternativo tanto amato da molti fan, e che ha raccolto tanti favori nel corso degli ultimi anni. Un what if che negherebbe quindi quanto visto nel primo film, ma permetterebbe al personaggio di Smith di essere una presenza fissa nel film. Di sicuro a livello di casting e anche di appeal commerciale, la scelta di Michael B. Jordan è molto intelligente, perché ha il sapore di un vero e proprio passaggio di consegne tra la vecchia guardia rappresentata da Smith e una nuova generazione di carismatici attori action incarnata proprio da Jordan. E voi? Che ne pensate di questo annuncio di Io sono leggenda 2? E che tipo di film preferireste? Un prequel? Un sequel? Un what if? Fateci sapere la vostra nei commenti. Grazie. Grazie.